ben ritrovati con la segna stampa in studio con voi rosario moreno bonus 600 euro le storie di chi è rimasto fuori dagli assunti somministrati senza reddito ai co 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 pagati a ore poi ci sono gli occasionali con compensi troppo bassi il decreto rilancio ha allargato alcuni paletti ma non abbastanza e non per tutti insomma ci sono le esperienze di alcuni cittadini che hanno scritto al fatto quotidiano punto it per esempio daniela sulla carta a un contratto da dipendente ma con un'agenzia per il lavoro che prima del covid la somministrava ad alpitur da marzo sono a zero ore zero stipendio ha detto lo stesso vale per francesco organizzatore di eventi ha chiamata massimo programmatore al conto in rosso e la domanda bloccata perché l'ex moglie prende il reddito di cittadinanza rogo thyssen club concessa la semilibertà ai due manager tedeschi condannati per la morte dei sette operai i familiari dicono non è possibile la procura tedesca di essen ha autorizzato il regime di semilibertà per harald e penan e gerald prignitz ritenuti corresponsabili dell'incendio a torino del 6 dicembre 2007 sono stati condannati a cinque anni di carcere per omicidio e incendio colposo rosina platì madre di un madre di una delle vittime ha detto ci incateneremo a andremo a essen qualcosa faremo il collega sopravvissuto dice notizia vergognosa sempre sul rogo thyssen club dalla condanna in italia le leggi tedesche così due manager non passeranno neanche un giorno intero in cella le leggi del nord reno westfalia il land in cui abita non abitano i due e l'azienda alla sua sede consentono ai due condannati per l'incendio in cui morirono sette operai di poter stare in carcere soltanto la notte il verdetto della cassazione risale alla 13 maggio 2016 ma ci sono voluti molti passaggi tra palazzi di giustizia ministeri e ambasciate di rome e berlino per arrivare lo scorso febbraio alla richiesta di carcerazione poi la decisione di concedere la semilibertà il procuratore generale saluzzo ha detto una decisione di un'autorità estera non posso commentare mi dispiace per le famiglie armi all'egitto non solo le fregate l'italia vuole costruire navi militari nel paese di al sisi in questi ultimi giorni il governo pretende sui giornali la verità egiziana sulla morte del ricercatore universitario giulio reggiani da ottobre invece lo stesso governo negozia col regime del generale al sisi un'ampia vendita di armi e una sinergia nell'industria bellica per entrare nel mercato africano casa monica la villa rossa simbolo del clan sanata con i condoni degli governi berlusconi ora il sequestro dopo un'intestazione fittizia nelle carte dell'inchiesta che ha portato in carcere 20 persone e fatto mettere sigilli a ben 20 abbeni per scusatemi abbeni per 20 milioni di euro compare anche la casa rosso pompeana di due piani della romania emblema della forza della famiglia tra le pagine dell'ordinanza si scopre che il proprietario guerrino pelè casa monica aveva usufruito di due provvedimenti dei governi di centrodestra per regolarizzare la sua abitazione che ora verrà restituita ai cittadini perché sequestrata a causa di un raggiro smascherato dagli inquirenti notizia da napoli e dalla campagna l'autolavaggio abusivo diventa anche concessionaria denunciato il proprietario i carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare forestale di napoli insieme a quelli della stazione di grumo revano e del nucleo operativo ispettorato del lavoro partenopeo hanno sequestrato un autolavaggio a casandrino già denunciato nel 2017 il titolare dell'esercizio assistette al sequestro dell'attività ciò nonostante i militari hanno constatato che il 47enne stesse continuando a lavorare illecitamente addirittura avesse ingrandito la sua attività agnano esito delle analisi dell'ingv dicono nitride carbonico e gas atmosferici nei giorni scorsi residenti della zona di agnano pisciarelli erano stati messi in allarme dalle consistenti emissioni di vapore generate dai lavori di realizzazione di un pozzo geotermico in via antiniana sabato i vulcanologi dell'osservatorio vesuviano hanno effettuato un sopralluogo ed effettuato dei campionamenti le indagini geochimiche hanno riguardato il campionamento dei fluidi emessi dalla perforazione da un pozzo preesistente che è situato a circa 30 metri di distanza dal nuovo foro e già nel passato investigato dal nostro istituto ha dichiarato francesca bianco direttrice dell'osservatorio vesuviano le attività tecniche hanno riguardato il prelievo di campioni di gas e vapori condensato dalla nuova emissione il campionamento le misure fisico fisico chimiche delle acque del pozzo adiacente nel prelievo del particolato emesso dal foro trasportato dal vapore e depositato si diffusamente nel piazzale e nelle aree adiacente notizie da treviso e dal veneto treviso granfondo pinarello salta l'edizione 2020 colpa dei protocolli così non è una festa hanno detto verso lo stop anche le manifestazioni di asolo e padova e il patrono ha detto torneremo l'anno prossimo con una tre giorni tarso donna muore a 56 anni soffocata da un boccone nicolina buttazzi stava facendo colazione quando un pezzo di pane le andate di traverso inutili tutti i soccorsi treviso ballava grazie al cortisone invalido assolto claudio vendramin era finito nei guai a causa dell'investigatore assoldato dalla moglie i giudici gli hanno dato ragione pedemontana allagata il sifone anti inondazione era ostruito da rifiuti residenti segnalano la sporcizia lungo la fossa ma il comune dice condotta libera e funzionante solo una questione di igiene treviso rotonda da pino con supermercato è stato presentato il piano privato in comune rivoluzione del traffico in strada ovest a tre anni dall'approvazione dell'accordo per l'area san portolomeo arriva il progetto della sime rondò anche in via eleno notizie dal friuli venezia giulia centri commerciali presa la coppia dei latri trasfertisti con la riapertura dei confini sono nati in azione due cittadini sloveni che avevano già colpiti in diversi punti vendita rubavano nei centri commerciali di aiello del friuli a ronchi dei regionari e anche a villesse usando un potente magnete per staccare il dispositivo antitaccheggio li hanno presi la scorsa domenica i carabinieri della liquida operativa della compagnia di monfalcone nave non ha norma bloccata in porta a monfalcone la guardia costiera ha riscontrato numerose irregolarità a bordo dell'imbarcazione con bandiera panamense personale della guardia costiera di monfalcone ha bloccato in porta una nave battente bandiera panamense nel corso di un'ispezione appunto a bordo i militari della capitaneria hanno scoperto gravi irregolarità rispetto alla normativa internazionale e hanno disposto il fermo amministrativo l'imbarcazione quindi potrà riprendere la navigazione solo dopo essersi messa in regola con l'auto si schianta contro una recinzione uscita di strada autonoma nel pomeriggio a Savorniano di San Vito al Tagliamento un incidente stradale nel pomeriggio intorno alle 17.40 a Savorniano di San Vito al Tagliamento i vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti nei pressi del centro della frazione dove un anziano per cause in corso di accertamenti ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada e finendo contro la colonna di una recinzione privata presa la coppia della truffa dello specchetto i due avevano provato a fuggire all'alto dei carabinieri a San Vito al Tagliamento due tentativi di raggiro negli ultimi giorni foglio di via obbligatorio dal comune di Pordenone per una coppia perché è sospettata di far parte delle bande specializzate nella truffa dello specchetto ieri una pattuglia dei carabinieri della radiomobile di Pordenone ha notato in via Capuccini un Alfa Romeo 147 grigia che alla loro vista ha fatto inversione di marcia i militari insospettiti della manovra hanno seguito la vettura e ha intimato l'alta l'auto ha poi cercato di nascondersi in un cortile ma senza successo si ferisce alla mano mentre taglia l'erba incidente nel pomeriggio di ieri nel cortile di un'abitazione di Fiumicello Villa Vicentina intervento sanitario appunto nel pomeriggio in comune di Fiumicello Villa Vicentina per un infortunio domestico verificatosi nel giardino di un'abitazione un uomo che stava tagliando l'erba con il decespugliatore è rimasto ferito a una mano dalla lama dello strumento bene cari amici con questo è tutto termina qui questa edizione della Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno buon proseguimento con la programmazione buon proseguimento con la programmazione